L'amministrazione comunale di Teramo intende fare definitiva chiarezza in riferimento alle polemiche e alle dichiarazioni emerse o rilasciate negli ultimi giorni sulla tassazione locale, in particolare sulla IUC, l'imposta unica comunale in vigore da quest'anno che racchiude in sé tre tasse locali, la Tasi, l'Imu e la Tari. Guardi innanzitutto vorrei dire ai nostri concittadini che questa IUC, Tari, Tasi non l'abbiamo voluta noi, è stata una scelta del governo centrale che noi non condividiamo, detto questo ovviamente ognuno fa il proprio mestiere, si sta dicendo che il comune di Teramo è tra i primi per quanto riguarda la Tasi, non si può leggere così questo nuovo sistema di tassazione, la IUC che è l'imposta unica comunale a Teramo si è ridotta perché la IUC è composta da Tari, Imu e Tasi, la Tari si è ridotta per quanto riguarda le attività economicamente rilevanti, si è ridotta fino al 20%, per invece le utenze domestiche si è ridotta dal percentuale che va dal 5 al 10%. Il comune di Teramo ha ridotto l'Imu, ha fatto tutta una serie di riduzioni per quanto riguarda le case a canone concordato, tutta una serie di esenzioni e di riduzioni. Se si fa la somma del Limo e della Tasi così come prevede la legge, noi non siamo al massimo, bensì stiamo un punto percentuale sotto. Allora, questo è quello che si deve dire, che la IUC a Teramo si è ridotta andando a sommare i vari tipi di tassazione. Sulla Tasi è vero che siamo al 3,3%, è vero pure che lo 0,8% di questo 3,3% è servito per fare le detrazioni, al comune di Teramo in cassa entra soltanto il 2,5%, quello 0,8% serve per fare le detrazioni. Abbiamo utilizzato il sistema ISEE che è uno dei sistemi che vengono utilizzati più frequentemente, magari questo sistema ISEE non avrà dato i risultati sperati. Noi siamo consapevoli che comunque queste nuove tasse creano una serie di difficoltà e anche di incertezza nei cittadini e questo ci dispiace e questo mi dispiace, ripeto, però non sono tasse che abbiamo voluto noi.